Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud fu l'essere più straordinario che abbia mai solcato la terra. Fu un miracolo, un fenomeno d'ordine sopranaturale, per la tremenda precocità e il mistero del suo destino, che rimane impenetrabile come il suo genio. Jean Cocteau Una carovana di cammelli attraversa lentamente il deserto abissino. È l'aprile del 1891. Disteso su una rudimentale barella, Arthur Rimbaud è immobilizzato. La sua gamba destra è gonfia e rigida. I portatori etiopi stremati arrancano, rischiando di rovesciare la lettiga sotto la violenta bufera di sabbia. Dopo giorni e giorni di spossante marcia, la carovana giunge finalmente a Zeyla, porto Somolo sul mare arabico. Dall'ospedale di Aden, Arthur scrive alla madre. Quando gli ho mostrato il ginocchio, il dottore ha gridato che era una sinovite arrivata a un punto gravissimo. Ha parlato subito di amputare la gamba. Mamma, sono diventato uno scheletro. La mia schiena è tutta scorticata dal letto. Non dormo un minuto. E qui il caldo è diventato insopportabile. Un paio di settimane ed è costretto a ritornare in Francia. Salpa da Aden con l'Amazon, un piroscafo delle messaggerie marittime. Sprofondato in una cucetta, non parla con nessuno, non tocca cibo e sembra rivolgere al nulla parole di lucido delirio. Un tempo, se ben ricordo, la mia vita era un festino in cui tutti i cuori si aprivano, in cui tutti i vini scorrevano. Una sera ho preso sulle ginocchia la bellezza e l'ho trovata amara. E l'ho ingiuriata. Mi sono armato contro la giustizia. Sono fuggito. O streghe, o miseria, o odio. E' a voi che è stato affidato il mio tesoro. Van Gogh sbarca al porto di Marsiglia il 20 maggio. E' febbricitante, ha il volto emaciato, la pelle bruciata dal sole. Il ginocchio destro ormai in cancrena. All'ospedale della Concepcion, i medici non possono fare altro che amputare la gamba. E' un cielo grigio come il fumo, quello che lo accoglie alla piccola stazione di Vonk, nelle Ardenne, dove si trova il modesto podere di famiglia. Ad attenderlo, soltanto la sorella più piccola, Isabelle. Di certo non mi illudo. Conosco bene mio fratello. Se è tornato in Francia è più per curarsi che per riabbracciarci. È sempre stato irrequieto. Ma a me non importano le sue ragioni. Ciò che conta è che adesso, dopo dieci anni, è di ritorno. De Giovinetto, dalla bellezza quasi femminea, non riconosce più nulla. Arthur si guarda intorno spaesato, aggrappato alle stampelle che lo tengono ancora disperatamente in piedi. Arthur, finalmente! Sei di nuovo a casa! Non dice una parola, le sue pupille brillano. Isabelle riconosce quella luce di ghiaccio. Mentre il calesse procede instabile, il moncherino gli procura grande sofferenza. Ma nemmeno un lamento. Tutto nella sua persona emana grande dignità. Lo sguardo freddo e intelligente si posa sul paesaggio, su quella campagna perfettamente coltivata. Che beffa del destino! Io che ho tanto camminato, che mi sono affannato per sfuggire a questa misera terra, dove il pensiero invecchia e la vita ristagna. Ho tutto fin troppo chiaro. Ogni cosa di queste ardenne maledette mi grida dentro. Ancora. Un tremore lo attraversa quando vede stagliarsi la sagoma della piccola fattoria. Fuori, ad attenderlo, non c'è nessuno. Nostra mother non ha dimenticato, non mi ha perdonato e non lo farà mai. Il tempo aggiusterà ogni cosa. Pensa soltanto a guarire per ora. Mother, così Arthur, chiamava la madre in segno di scherno. Aveva sempre sofferto il suo carattere algido, fiero, l'educazione rigidamente cattolica. L'ho scellerato figlio, il ragazzo maledetto che ha abbandonato Dio e di nuovo a casa. Immagino che il suo cuore traboccherà di gioia. Non parlare così. Lo sai che è una donna dura, ma ti vuole bene. Sì, e se ne fa una colpa. Entrambe le cose erano vere. Madame Rimbaud lo amava, ma non lo avrebbe mai perdonato per quella sua turpe indole. Arthur e Isabelle la trovano seduta al tavolo della cucina. Non si muove, non accenna neanche un sorriso. Vieni, Arthur, ho preparato la tua stanza. E sorte dolorosa. Arthur Rimbaud, il poeta vagabondo che aveva percorsa Europa e Africa senza mai tregua, bloccato ora in quella terra che sempre aveva fuggito. Isabelle, per stupida che sia la propria vita, l'uomo ci si attacca. Nessuna vita è stupida. La tua sicuramente non lo è, Arthur. Sei un grande poeta, un genio. Non disperare. No, sarò per sempre un tronco immobile. Dove sono le corse per i monti? Le cavalcate, le passeggiate, i deserti, i fiumi e i mari? I suoi occhi per un istante si infiammano di collera. La fronte è imperlata di sudore, prende fiato. Devi essere forte. Dio è dalla tua parte. Ti ha donato il privilegio d'essere poeta. Dalla mia parte Dio non lo è mai stato. Sì, poeta lo fui. Basta con le parole. Seppellisco i morti nel mio ventre. Ho invocato i flagelli per asfissiarmi nella sabbia, nel sangue. Mi sono asciugato al vento del delitto e alla follia ho giocato qualche brutto tiro. Sono stato maledetto. Taci. Il mondo chiederà ancora di te. Tu che ne sai di me? Io sono un mistero. Si agita nel letto, avvinto da lenzuola che pesano sul corpo esausto. Isabel, timorosa, gli stringe la mano. Arthur fissa la parete. Svelamelo allora. Riviviamo insieme la tua vita. Un testamento spirituale, Arthur. Mi sembra un secolo fa. Andavo per il mondo. Il passo non arretrava mai, sempre spinto dal cuore instancabile. Il tetto del mio stello era il cielo stellato. C'è chi racconta che ancora neonato, approfittando dell'assenza della sua elevatrice, si era messo carponi e stava per imboccare la porta d'uscita. Arthur era già pronto a intraprendere il suo viaggio. Almeno questo vuole la leggenda. Era un adolescente schivo, silenzioso. Alla compagnia di suoi coetanei preferì sempre passeggiare lungo la riva di un fiume o inoltrarsi nel profondo di un bosco. E non si stancò mai di camminare. Le sere blu d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestar l'erba fine. Sentirò trassognato quella frescura ai piedi e lascerò che il vento bagni il mio capo nudo. La sua reputazione al collegio di Charleville cresceva giorno dopo giorno. Tenga a mente quello che le sto per dire. Sta nascendo un ragazzo prodigio nel mondo della scuola. Con queste parole George Isambar, professore di retorica, si rivolse al preside. Questi, per tutta risposta, l'apostrofò con un'affermazione che aveva il sapore di una inquietante preveggenza. Definitelo pure intelligente quanto volete, ma c'è qualcosa che non mi piace nei suoi occhi, nel suo sorriso. Farà una brutta fine. Nell'inverno del 1871 il conflitto franco-prussiano volgeva al termine. La Francia era pronta a firmare l'armistizio. Rimbaud, per vaso di sacro amor patrio, fuggì a Parigi. Aveva soltanto 16 anni. Scrisse al professore Isambar. Quel che lei mi consigliava di non fare l'ho fatto. Sono andato a Parigi abbandonando la casa materna. Ho fatto questo scherzetto il 29 agosto. Arrestato mentre scendevo dal treno perché non avevo un soldo e dovevo 13 franchi del biglietto, sono stato condotto in prefettura. Venne incarcerato nelle prigioni di Mazas. Nella lettera lo pregava di liberarlo. Le sono grato, professore. Non solo per questo, ma di tutto. Arthur, diverrai il miracolo del nostro tempo. Non ringraziarmi. Io ti ho dato scienza, libri. Tu hai risposto con il genio. Il 15 maggio dello stesso anno scrisse al poeta ed amico Paul de Meny quella che passerà la storia come la lettera del veggente. Il poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi, tutte le forme d'amore, di sofferenza, di pazzia. Egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, per non conservarne che la quintessenza. Da giorni ormai Arthur è relegato nella piccola stanza del podere di Roche. Trascorre interminabili giornate a guardare fuori dalla finestra. Isabelle, prepara il calesse. Voglio sentire i ruscelli, respirare la natura. Lentamente il calesse si inoltra per la campagna. Arthur indossa con orgoglio una lunga coperta di stoffa avvissina dai colori sgargianti. I contadini per la campagna lo osservano con aria interrogativa. Quando riconoscono Isabelle capiscono che quell'uomo dalla lunga barba bruciata dal sole è il poeta. È singolare come il tempo non riesca a raggiungere questa terra. È vero, tutto sembra rimasto uguale sin dai tempi della nostra giovinezza. Te la ricordi quella stagione? È tutto così spaventosamente nitido, Isabelle. Nel 1871 Paul Verlaine era già un poeta affermato. I poemi Saturnini e le feste galanti lo avevano consacrato come il più talentuoso rappresentante della nuova scuola parnassiana. Arthur divorò quei versi. Non poteva più rimanere in quella provincia bigotta e ottusa. Volerlo trattenere era come cercare di fermare una stella cadente. Inviò a Verlaine alcune poesie, tra cui il celebre Le Batou Ivre, il battello Ebro. Più dolce che ai fanciulli la polpa delle mie lamature. L'acqua verde penetrò il mio scafo d'abete e dalle macchie di vini azzurrastri e di vomito mi lavò, disperdendo ancora e timone. E da allora mi sono immesso nel poema del mare, infuso da astri e lattescente, divorando i verdi azzurri dove, flottaglia pallida e rapida, un pensoso annegato talvolta discende. Verlaine ne amò ogni verso, ogni singola parola. La tua musa, Rembaud, assume tutti i toni, pizzica tutte le corde dell'arpa, con un archetto agilissimo come nessun'altra prima. Vieni, cara e grande anima, vi chiamiamo, vi aspettiamo. Arthur rispose a quell'invito accorato e furono dannati. Il 10 settembre arrivò a Parigi. Verlaine ne rimase folgorato all'istante. Era alto, ben fatto, quasi atletico, con un viso perfettamente ovale, da angelo in esilio, i capelli castani sempre in disordine e gli occhi di un inquietante oscuro pallido. Fanciullezza sublime, suprema pubertà. Lo introdusse negli ambienti culturali parigini, anche nell'esclusivo club di poeti e artisti dei Vilen Bonhomme. Paul, in quanto a intelligenza non temo nessuno, ma quello è un salotto di intellettuali. Non saprò come comportarmi. Non preoccuparti, rimarranno abbagliati. La tempesta ha benedetto i miei marittimi risvegli, più leggero di un sughero danzato tra i flutti, che si dicono eterni involucri delle vittime, per dieci notti, senza rimpiangere l'occhio insulso dei fari. I versi di Arthur sconvolsero e ammutolirono i convitati. In breve tempo, nei circoli letterari della città, non si parlò d'altro. «Stiamo assistendo alla nascita di un genio», si mormorava per le strade del quartiere latino. Ma egli era indomabile, sfacciato, rozzo, un animale selvatico. Passava intere giornate a vagabondare tra i clochard di Plasmo Bear. Un giorno, Vittorio Golo chiamò affettosamente Shakespeare Bambino. Arthur lo zittì all'istante chiamandolo «stupido vecchio». «Se continui a comportarti così, non riuscirò a proteggerti ancora per molto. Hai bisogno di quella gente, dei loro consensi». «Non ho bisogno di consenso, Paul. Ho bisogno di un letto e di cibo». Ma Mathilde Motte, la moglie di Verlaine, era stata irremovibile. «Non può vivere in questa casa. È uno zoticone, mi fa paura». Verlaine gli affittò una stanza all'Hotel des Etranger, sede del circolo letterario Zutic. Insieme si abbandonarono a una vita di eccessi, sregolatezza e stravaganza di ogni sorta. Arthur, però, nelle Bettole di Parigi, continuava, senza tregua, a costruire la sua grande opera. «Questa lingua sarà dell'anima per l'anima. Riassumerà tutto. Profumi, suoni, colori. Pensiero che uncina il pensiero e che tira. La poesia non ritmerà più l'azione. Sarà più avanti». Che il rapporto fra i due poeti fosse molto intimo non era un mistero per nessuno, neanche per Mathilde. «Ha portato soltanto scompiglio, rovina e vergogna nella nostra vita, Paul. Allontanalò». «Io sono legato a lui, non lo capisci? Io ho bisogno di Rimbaud». Verlaine era una marionetta nelle sue mani. «Ed io, all'ombra del tuo genio, della tua follia, mi andavo ripetendo, «Sì, pazzo morirò di quel tuo sguardo maledetto». Fummo scandalosi senza sapere bene il perché. Imperturbabili nell'orgoglio di essere i più liberi, sordi agli insulti, inaccessibili al riso del mondo». «Il 2 marzo 1872, a una riunione dei Villain Bonhomme, il poeta Auguste Creisselle si accinse a leggere un suo componimento. Tutti ascoltavano in silenzio, tranne Arthur. «Merde, merde!» Accompagnava la conclusione di ogni verso con quel turpilopio. Uno dei convitati, il fotografo Cargiat, non tollerò. «Smettila, piccolo rospo!» Il giovane ribelle delle Ardenne non ebbe un attimo di esitazione. Si avventò su di lui e lo ferì alle mani al ventre con la lama del suo bastone da passeggio, tra lo stupore e lo sconcerto di tutti. «Lo avrei di certo ucciso se non ci fossi stato tu, e sarebbe stato un bene!» «Arthur, adesso stai esagerando, rimarrai solo!» «Bella novità, sono sempre stato solo, e questa città mi è venuta a noia. A Parigi sta diventando impossibile trovare un poeta di valore». L'episodio destò scalpore e disappunto. Il valore e la grandezza del poeta furono oscurati dalla villania dell'uomo. Arthur Rimbaud venne bandito. «Era di nuovo solo, a cantare la follia del suo genio, cencioso e felicemente disperato, come un angelo decaduto. Ah, gli stracci impotriditi, il pane inzuppato di pioggia, l'ebbrezza, i mille amori che mi hanno crocifisso!» Quando decise di partire per il Belgio, Berlin non poteva seguirlo, ma non riuscì a sopportare a lungo l'idea di stare lontano da lui. «Il 7 luglio del 1872 lo raggiunse lasciando a casa moglie e figlio. La discesa all'inferno ebbe inizio». «Matilde, non piangere, sto facendo un brutto sogno. Un giorno tornerò». Nelle Ardenne, l'estate del 1891, è veramente rigida. Nonostante tutto, Arthur sta seduto in giardino all'ombra di un tiglio. Isabelle lo osserva da lontano. «Da giorni sostengo il suo corpo che vacilla. Lo guido, mi prendo cura di lui passo dopo passo. Allontano dal suo unico piede pericoli e ingombri. Lo veglio di giorno, di notte». Gli si avvicina lentamente. «Ti stavo aspettando. Sei l'unica che mi sa ascoltare». Arthur si accareccia il polso, dolcemente. L'espressione è tormentata. Isabelle intuisce quali ricordi riaffiorino nella sua mente. Non osa dire una parola. Quella ferita risale a tanti anni prima. Era stato Verlaine a procurargliela. Arthur non ne aveva mai parlato esplicitamente. «Lo so che per voi è sempre stata una vergogna, un marchio di infamia sulla mia pelle di peccatore. Ma devo parlarti di Paul Verlaine. A questo punto devi concedermelo, Isabelle». «Racconta, è finito il tempo dei silenzi». «Al dolore della carne potrei anche abituarmi, ma la sofferenza del cuore da quella non si guarisce». «Io non posso guarirti, ma posso ascoltarti». I due poeti avevano girovagato a lungo tra il Belgio e Londra, frequentando gli ambienti dei rifugiati comunardi francesi. Avevano condotto un'esistenza sempre in bilico tra glorie e deformità, scendendo a capofitto nell'abisso del vizio e dell'eccesso. A Londra si erano immersi nell'oceano della metropoli, si erano persi tra i vapori e le nebbie dei vecchi dock e nell'East End, tra vicoli malfamati o dentro disgustose taverne. «La mattina avevo lo sguardo così perso e un'aria così morta, che quelli che mi hanno incontrato forse non mi hanno visto». «Il loro sudalizio finì tragicamente a Bruxelles, nella stanza di un albergo all'angolo di Rue du Brasseur, nel luglio del 1873. La convivenza era ormai divenuta impossibile. Arthur manifestò la volontà di tornare a Parigi». «Parti e vedrai». Paul acquistò una rivoltella alla Galleria Saint-Hubert. Ormai era un uomo alla deriva, incattivito dall'alcol, inebetito dall'assenzio. Arthur se lo vide comparire stravolto con una strana luce negli occhi e la pistola nella mano tremante. «Questa è per te. Vuoi ancora partire?» «Sì, Paul, tornerò in Francia. È deciso». Due colpi di pistola risuonarono con fragore tra le mura della piccola stanza. Arthur non disse nulla. Stringeva il polso sanguinante mentre fissava negli occhi quell'uomo disperato. Fu medicato all'ospedale Saint-Jean e fuggì in Francia. Paul fu condannato a due anni di carcere da scontare nella prigione di Mons. Da quel momento Arthur non fu più lo stesso. Si ritirò a Roche. Era completamente intossicato da droga e alcol e in lui si agitavano i diavoli del peccato, del rimorso, del pentimento. «I miei giovani anni furono splendenti, forti e gloriosi. Ricordo male. Per colpa di quale delitto, di quale errore mi sono meritato questa miseria, questo dolore indicibile». Passarono appena due mesi dalla precipitosa fuga da Bruxelles e nel fienile della casa di campagna riuscì a portare a termine la sua opera più complessa e allucinata. Il libro nero, come lo chiamava. Una stagione all'inferno. «Io non so più parlare. Eppure oggi credo di aver finito e reso conto del mio inferno. Era davvero l'inferno. Quello antico di cui il figlio dell'uomo aprì le porte». Decise di abbandonare la scrittura. Aveva appena vent'anni. Il dottor Baudier sta visitando il moncherino di Arthur. È gonfio e dolente. «Perché?» si domanda Isabel. «Perché ha allogorato il suo fisico sino all'inverosimile, fino a farlo marcire. Era un grande poeta, era giovane. Che cosa era andato a cercare in quelle terre ostili, così lontane da casa? Perché l'Africa? Forse spiava una colpa. Forse era soltanto nato vagabondo. Ripensò a quando scrisse da Genova, raccontando una delle sue prudezze». Era arrivato lì nel novembre del 1878, dopo aver attraversato l'Europa da Napoli a Marsiglia a Stoccolma. Da un buco maleodorante di taverna sul porto, aveva scritto alla famiglia. «Partirò domani sera per l'Egitto. Sarà una lunga traversata. Arriverò a fine mese. Quanto al modo in cui sono venuto fin qui, è stato accidentato e di tanto in tanto rinfrescato dalla stagione». Attraversando le Ardenne sul versante destro, aveva raggiunto la Svizzera e superato i vosgi, prima in diligenza, poi a piedi, assieme ad uno sparuto gruppo di compagni, dato che le bufere di neve rendevano impossibile il passaggio alle vetture. Lasciandosi alle spalle le vallate, si erano arrampicati costeggiando precipizi e imponenti pareti di roccia. Soffiava una tremenda tormenta di neve. «Non c'erano più ombre, né sopra, né sotto, né intorno. Bianco, soltanto bianco, da pensare, da toccare, da vedere e da non vedere, perché era impossibile sollevare lo sguardo da quella noia bianca che si presumeva fosse il sentiero. Finalmente arrivamo ad una casa cantoniera e pagammo per una scodella di zuppa. Poi subito, di nuovo in marcia, ma la bufera aumentò. Un convoglio di slitte era in difficoltà, i cavalli erano stramazzati, semi coperti dalla neve e anche noi affondavamo sino alla cintola, sino alle ascelle. Stavamo per cedere. D'un tratto non credetti ai miei occhi. Sì, dietro una trincea, un'ombra pallida, era l'ospizio del gottardo. Ci sono riuscito! Ho vinto la montagna!» Alla fine della gelida estate del 1891, Artur, malato e sofferente, è accompagnato da Isabella a Marsiglia, da dove si illude di poter salpare alla volta dell'Africa. Il viaggio è in treno e penoso, e giunto a Marsiglia, deve essere ricoverato immediatamente. Isabella, nei corridoi dell'ospedale della Concepción, Isabella, al colmo della disperazione, scrive alla madre. «Mio fratello, tuo figlio, non ha speranza. Artur sta morendo!» La risposta di Madame Rimbaud giunge un paio di giorni più tardi. «Figlia mia, questa malattia è la punizione che Dio gli ha concesso!» Artur Rimbaud, l'uomo dalle suole di vento, come lo definì Paul Verlaine, muore il 10 novembre del 1891, viene sepolto nella tomba di famiglia a Charleville, quella cittadina che egli, in vita, aveva sempre fuggito. Al funerale nessun amico, nessun letterato, soltanto Isabelle e Madame Rimbaud. Di certo l'epitafio funebre più azzeccato lo scrisse sul registro dei decessi l'impiegato dell'ospedale. Alla voce indirizzo annotò di passaggio. «La sua bellezza sta negli occhi, di un azzurro pallido cerchiato da un azzurro scuro, i più belli che abbia mai visto, con un'espressione di coraggio pronta a qualsiasi sacrificio, quando era serio, di una dolcezza infantile, squisita quando rideva, e quasi sempre, di una profondità e di una tenerezza stupefacenti. lo ricorda così Delayet, uno dei pochi amici della sua prodigiosa infanzia». Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla storia in giallo, con la nostra ospite di oggi, che è Daria Galateria, giornalista, scrittrice, docente di letteratura francese all'Università di Roma. Buon pomeriggio. Salve. In un saggio piacevolissimo dal titolo emblematico scritti Galeotti, letterati in carcere, lei parla, fra l'altro, del drammatico episodio di Bruxelles che vide protagonista Rimbaud e Verlaine. Cosa accadde? Era il 1873 e Rimbaud e Verlaine si trovavano a Bruxelles. Rimbaud arrivando si irritò subito perché vide che Verlaine si era portato dietro la madre e temò che ci fossero anche la moglie e la suocera magari. E comunque dichiarò la sua intenzione di partire. Verlaine questo non riusciva a tollerarlo perché era veramente troppo innamorato di Rimbaud, era un sodalizio veramente intellettuale e fisico, fortissimo. Alla moglie aveva una volta mostrato il petto dicendo detesto questi amori coniugali, noi abbiamo rapporti di tigre e il poliziotto disse poi che aveva effettivamente il petto intagliato di coltellate. E comunque nel pomeriggio Verlaine andò a procurarsi una pistola e 50 pallottole. Poi raggiunse Rimbaud che stava in questo piccolo albergo di Bruxelles e gli sparò, siccome Rimbaud appunto gli diceva di voler andare via, mise la sedia contro la porta, si sedette e gli disse allora prendi questo e gli sparò due colpi, uno sul pavimento e uno ferì Rimbaud al polso. Si precipitò la madre, riuscì a curare Rimbaud, lo portarono in ospedale, ma Rimbaud sempre e comunque voleva partire. Vanno quindi tutti quanti insieme alla stazione, la madre di Verlaine dà a Rimbaud anche un po' di moneta appunto per rendergli possibile il viaggio e però Verlaine infila la mano nella tasca e Rimbaud, temendo che voglia di nuovo sparargli, si mette a correre con le sue famose suole di vento, come lui scrisse in una bellissima poesia, e si precipita nelle mani di un poliziotto perché lo protegga in qualche modo e per cui finiscono tutti quanti al commissariato e lì la mamma di Verlaine racconta che questo ragazzo ha un po' traviato il film, di fatto Verlaine finisce poi in carcere mentre Rimbaud viene scagionato e viene lasciato libero di rientrare. Ecco, lei ha fatto riferimento a questo sodalizio intellettuale fisico, ecco, spesso tra gli artisti si formano questi sodalizi per così dire pericolosi, mi viene in mente anche Van Gogh e Gauguin. Sì, questo è un caso proprio emblematico e anche molto bello perché Rimbaud che cercava disperatamente di fuggire da questa sua patria nelle Ardenne da questo piccolo paese con questa madre molto forte ma in qualche modo astratta nelle cure della terra e lui cercava continuamente di fuggire e mandò a Verlaine di cui ammirava le splendide poesie e lui batò ivro in una delle sue prime composizioni e Verlaine si rese immediatamente conto di avere a che fare con un genio con qualcuno che stava veramente stravolgendo la lingua e quindi lo invitò e un giorno arrivò questo ragazzino a casa il passant considerable dissero poi questo passante importante e fu praticamente una rivelazione tra l'altro Verlaine era appena sposato stava conducendo una vita in fondo borghese per essere quel grande poeta sregolato che era che poi ogni tanto si ubriacava metteva fuoco ai capelli della moglie eccetera quando aveva un po' bevuto una volta buttò il figlio contro la parete cioè era anche un uomo violento ma aveva poi dei fortissimi pentimenti degli intenerimenti enormi e disse addirittura a questa moglie che andava ogni tanto a riprendersi che rimase sconvolta che probabilmente capì solo molto a fatica il rapporto che c'era che era nato fisico tra il marito e questo ragazzino che aveva 16-17 anni e lui le disse non hai avuto tutta la pazienza ti ne ha tutta la pazienza ebbe invece con una certa facilità il divorzio torniamo a Rimbaud nel nuovo romanzo Philippe Besson I giorni fragili di Arturo Rimbaud che lei peraltro ha recensito afferma per bocca della sorella minore Isabelle nella nostra famiglia gli uomini non rimangono una frase bellissima che cosa voleva intendere? sì è un attacco veramente strepitoso di un saggio che si tiene tutto su un linguaggio medio perché parla questa sorella che è rimasta in questo piccolo paese quindi c'è da una parte un linguaggio modesto e contemporaneamente troppo sentimentale ecco però con questo attacco fortissimo e bellissimo perché questo padre completamente assente è scomparso il fratello maschio anche ha litigato con questa madre quindi anche lui è uscito dall'orizzonte di questa famiglia e Rimbaud ha cercato tutta la vita di partire ha veramente è scappato in qualche modo per tutta la vita e quindi c'è questa frase bellissima con queste donne che rappresentano le radici che rappresentano i valori e quindi questo racconto di Besson è piuttosto interessante proprio per questo perché mostra questo punto di vista radicato cioè basato su certi valori proprio come se ci fossero delle radici affondate nella terra per rappresentare questo essere assolutamente d'eccezione fuori dalle norme fuori dalle leggi previste fuori dalle leggi impreviste che si comportava in modo intollerabile per la sorella e quindi la sorella cerca poi di rifargli un profilo più comprensibile per lei stessa in questo periodo in cui malatissimo lui torna nella sua casa dell'infanzia lo comunava al padre non solo l'ansia di viaggiare ma anche altre scelte diciamo ribelli nella vita ecco perché però non c'è traccia nella sua opera di quest'uomo perché in realtà tutto quello che ha fatto le origini della sua vita sono qualcosa che cerca solo di cancellare è tutta una continua fuga ha viaggiato dappertutto è stato in Batavia in Germania Belgio Inghilterra Aden Cipro Alessandria d'Egitto Lararlo Gadin Stoccoma anche Milano anche l'Italia a Genova ha molto frequentato e quindi tutto quello che faceva parte delle sue origini sono l'oggetto di questo continuo rifiuto e anche i suoi viaggi sono proprio questo uscire fuori da se stesso ma da se stesso come civiltà e in effetti l'Africa è proprio questo il voler sradicarsi da tutto quello che era il suo passato compresa questa bellissima lingua In Reboux quindi il tema centrale è quello proprio del viaggio e lui anche per i Baudelaire che lui stimava e amava a tal punto da definirlo il re dei poeti un vero dio e i due poeti però avevano un modo diverso di intendere il viaggio quale? Baudelaire ha fatto questo viaggio esotico che ha molto influenzato la sua poesia e però aveva una concezione dell'arte anche da dendi molto raffinata e classica dal punto di vista metrico dal punto di vista metrico Baudelaire è estremamente classico Rimbaud è assolutamente un'altra ha un'altra violenza e il suo rifiuto del passato arriva al punto di come ebbe a dire Mallarmé di operarsi da vivo della poesia c'è un momento in cui abbandona addirittura queste vette veramente di arte che aveva raggiunto ed è uno dei grandi enigmi della nostra civiltà uno delle grandi ferite René Char che è un poeta invece contemporaneo del novecento ebbe a dire t'abbia fede partire Arthur Rimbaud hai fatto bene a partire Arthur Rimbaud e però sì certo ma partendo è partito al punto che si è negato perfino si è operato per l'appunto anche della poesia allora è possibile che la nostra civiltà sia così atroce da rifiutare perfino l'arte da dover indurre una persona di genio a sradicarsi addirittura da un linguaggio che adorava straordinariamente quando si riunivano i poeti questa bohème di Parigi e qualcuno si metteva a recitare i suoi versi si erano accademici merda diceva Rimbaud scandiva a ogni verso con la parola di Cambron come noi diciamo appunto Rimbaud voleva addirittura spingersi a rifondare il linguaggio e lo faceva associando le vocali ai colori lui scrisse addirittura questa lingua sarà dell'anima per l'anima riassumerà tutto profumi suoni colori ecco in che modo riusciva a mescolare tutto questo questo era un po' una una volontà di tutto il decadentismo questo di operare una specie di osmosi di fusione di togliere i confini tra la musica i colori la pittura e le parole fu un'enorme rivoluzione contemporanea in questo senso forse è andato addirittura più lontano Verlaine perché ha scritto appunto queste romanze senza parole delle poesie che avevano una tale effusività musicale da diventare quasi da rendere quasi insensibile il senso c'era un editore proprio di musica che chiese a tutti gli amici di 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 un verso la tua anima è un paesaggio scelto che incantano maschi e bergamaschi e nessuno gli seppe dare una motivazione a questo verso allora tornò dalla moglie tutto soddisfatto dicendogli vedi non significa assolutamente nulla ecco vogliamo ricordare una frase che lei ha riportato nel suo saggio scritti galeotti è una frase nelle note del prefetto della polizia quelli che avevano arrestato Rimbaud e Verlaine dove viene definito Rimbaud un monello che possiede la meccanica del verso come nessuno però le sue opere sono assolutamente inintellegibili quello che lei diceva appunto la polizia spesso stila dei dei verbali in cui dà dei giudizi molto illuminanti su questi poeti molti scrittori e poeti del secondo impero e della terza repubblica dell'inizio della terza repubblica sono stati processati e tutto quello che si è detto in questi processi gli avvocati dell'accusa gli avvocati della difesa tutti quelli che instauravano proprio il processo scrivono cose forse più illuminanti dei critici dell'epoca hanno saputo identificare e hanno processato proprio le grandi menti di quell'epoca e a proposito di polizia e di processi le ricordo un'altra frase che lei ha scritto e la galera per lo più si addice agli scrittori la tesi è decisamente affascinante certo sono gli scrittori sono persone che comunque vedono forse intanto più lontano hanno sicuramente una sensibilità più scoperta è un po' parte del mestiere di vivere con più dolore è la tesi di Walter Benjamin a proposito di Baudelaire che appunto citavamo prima è una specie di shock che non viene mai riassorbito il poeta è qualcuno che non deve abituarsi che non usa questo lenitivo dell'abitudine deve continuare a scontrarsi con la realtà a pelle nuda diciamo sempre con i nervi scoperti e così può dare una visione più profonda e più sensibile del nostro tempo Proust dice ancora un'altra cosa dice che bisognerebbe essere come di notte quando siamo tutti più teneri Dare Galaterie il periodo africano a cui faceva riferimento prima è quello più oscuro nella vita di Rimbaud molto si è detto addirittura che fosse un mercante di schiavi cosa c'è di vero? Fu senz'altro mercante di armi questo sì no di schiavi non direi si era messo con la serietà proprio delle sue fotografie di quando aveva 16 anni quest'area da arcangelo atroce però sempre anche nelle rarissime fotografie che abbiamo del suo periodo in Arara ha un'area molto molto seria molto compunta davvero commerciante e lo ha fatto con molta serietà le lettere con cui scrive a questi suoi colleghi sono molto interessanti proprio per questo per l'assoluta coesione diciamo così che ha nei confronti della sua partecipazione che mette in questo suo nuovo veramente astratto per noi mestiere e contemporaneamente ogni tanto arrivavano delle notizie da Parigi in cui dicevano che venivano pubblicate le sue opere che lui era famoso e le persone che erano lì e che lo sentivano parlare arabo veramente legare con le persone del luogo rimanevano estremamente stupiti perché lui veramente aveva messo un punto rispetto alla sua vita passata in Africa la persona più cara a lui fu Jamie un suo servo fedelissimo nel romanzo di Besson Rebaud dirà di lui era lì quando non c'era più nessuno avegliato su di me come un fratello naturalmente ha avuto degli amori Rebaud nel periodo africano di cui però sappiamo abbastanza poco aveva una donna questo è sicuro aveva questo compagno questo serbo compagno e soprattutto ha sempre svolto un'opera un po' da esploratore in queste zone continuava sempre a viaggiare e raccontano i suoi colleghi come l'esploratore italiano Ugo Ferrandi che nonostante ci fossero dei muli lui camminava sempre a piedi e questa è stata una sua l'immagine che abbiamo di lui quando attraversa le Alpi con la neve fino alle ginocchia quando appunto attraversa il deserto sui suoi piedi e poi invece purtroppo quando viene per l'ultimo viaggio portato in lettiga ed è già addolorante e sta morendo vorrei concludere con l'ipotesi di una conversione religiosa di Rimbaud nella sua recensione Romanzo di Besson lei afferma che la sorella Isabelle si esalta a inventare una finale conversione del fratello quindi lei non crede che ci sia stata in realtà questa conversione no credo che sia ormai scientificamente accertato che questa lettera in cui si parla di una conversione finale di Rimbaud è una è una decisione molto postuma e proprio è bello anche perché fa capire l'ambiente in cui ha vissuto Rimbaud e da che cosa fuggiva il fatto che la sorella abbia avuto bisogno di correggere l'immagine di questo fratello che a lei sembrava veramente un'immagine vergognosa e quindi ha immaginato questa conversione di Rimbaud ed è vero invece quello che sappiamo con assoluta certezza che era talmente adorato in questo ospedale di Marsiglia in cui si è spento che i medici alla fine non andavano più a trovarlo perché lo vedevano piangere e non avevano cuore di vederlo soffrire così perché in qualche modo aveva comunicato la sua genialità anche nel momento in cui aveva in qualche modo spento quella luce aveva voluto spegnerla però era ancora Rimbaud e tutti lo sapevano grazie a tutti